Oggi siamo scesi in piazza, come molte città d'Italia, ed abbiamo occupato i binari per dire ancora una volta no TAV, per opporci ancora una volta a quest'opera inutile. Un'opera che oltre a rovinare un territorio bellissimo, mettendo a rischio non solo le vite dei Valsussini, ma l'intero bios della valle, ripropone la logica del debito. Un debito che riguarda non solo l'Italia, ma l'intera Europa, perché questa è una battaglia che dobbiamo assumere tutti noi. Inoltre la TAV attacca la libertà e l'autodeterminazione dei popoli della valle, mette a rischio la capacità di autogoverno che quei popoli molto intelligentemente, dopo anni di lotta, sono stati in grado di costruire. Per questo vogliamo dire ancora una volta no TAV, ma non solo, vogliamo anche essere vicini a Luca, il compagno che ha lottato per anni e che ora è in ospedale. E soprattutto vogliamo essere solidari con gli arrestati che ci sono stati nelle settimane scorse.